oroscopo 2021 per i segni di terra e partiamo dal foro voi i tori essendo un bo lenti e macchinosi normalmente avete bisogno di tempo prima di prendere decisioni vi troverete nelle condizioni di dover fare scelte e chiarimenti difficili e anche improvvisi più rimarrete attaccati alle vostre abitudini più difficoltà incontrerete comunque sarete capaci grazie al vostro induito di fare le scelte migliori il segno della vergine il 2021 sarà caratterizzato dalla voglia di riorganizzare di riprogrammare un futuro meno pigro e meno scondato non fatevi prendere la mano dalla voglia del cambiamento ad ogni costo il rischio è di fare scelte avventate riflettete prima di fare di agire valutate bene quali siano le cose importanti evitate scelte che potrebbero risultare sbagliate il capricorno il capricorno il capricorno proviene da un 2020 abbastanza difficile e complicato è stato un periodo in cui il capricorno doveva eliminare vecchie abitudini vecchi amori avete dovevate dare uno scossone all'inutile che vi accompagnava da un po di tempo i capricorni che sono riusciti a fare queste cose si troveranno nel 2021 avvantaggiati con molta più consapevolezza con più decisione con su con più sicurezza e avranno modo di raccogliere frutti copiosi dry 63 64 25 37 38 34 40 74 34 34 35 36 Grazie a tutti